eh sì ve l'avevo promesso ve l'avevo promesso eccolo qui ce l'ho tra le mani è piccolissimo, leggerissimo era anche in offerta su Amazon qui sotto troverete il link per andare ad acquistarlo si chiama RavPower è un alimentatore che ci permette di alimentare i nostri giocattolini USB con una, due, tre, quattro, cinque prese USB Smart e una sesta presa super veloce sì, super veloce è un prodotto che trovo indispensabile lo caccio sempre in borsa perché ragazzi ormai è tutto in carica USB, USB-C e via dicendo questo prodotto qua mi sembra la soluzione definitiva per tutti i miei problemi e cosa vi posso dire? funziona benissimo, costa poco secondo me è uno di quei prodotti che dovete avere in borsa non ho altro da aggiungere non sto a mostrarvi come funziona perché si attacca alla spina ci attaccate il vostro cavetto USB e ricaricate fino a sei apparecchi contemporaneamente quello verde qua in alto serve per caricare ultra veloce semplice no? niente, non mi resta che salutarvi vi ho dato anche questa dritta un altro dei prodotti che secondo me sono indispensabili da tenere nella vostra valigetta nella vostra borsa quando venite in giro e anche a casa perché vi assicuro che lo utilizzo moltissimo anche a casa è il mio unico caricabatteria multiplo generico per tutti i miei strumenti e accessori che si caricano via USB non mi resta che salutarvi ricordatevi di iscrivervi al mio canale cliccate mi piace su questo video cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video che usciranno ci vediamo con il prossimo video un saluto a tutti quanti ciao!